The Weeknd ha annunciato nuove date del suo After Hour Teal Down Tour. Lo vedremo anche in Italia il 26 luglio del 2023 all'ippodromo SNAI di Milano. Il tour partirà il 10 giugno da Manchester per proseguire in Europa e America Latina prima di concludersi il 15 ottobre a Santiago in Cile. The Weeknd è ambasciatore del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Con i fondi di questo secondo segmento del tour collaborerà nuovamente con il programma dell'ONU che sostiene l'organizzazione nella lotta alla fame nel mondo. A questa causa andrà un euro per ogni biglietto venduto in Europa, una sterlina nel Regno Unito e l'equivalente di un dollaro nei paesi di tutta l'America Latina. In molti si sono fatti avanti per contribuire. I primi fondi saranno destinati a fornire assistenza alimentare e nutrizionale di emergenza alle regioni più povere dell'Etiopia.